Ragazzi e bentornati su MineGraph Ok scherzo ragazzi Siamo qua tornati su MineGraph Ok Oggi Ah il telefono è faticoso Ok oggi andiamo Vediamo di esplorare un po' questo Questo mondo Ok se raccogliamo anche un po' di legna Va bene Andrebbe anche meglio Ok ragazzi cosa fare oggi Scegliere il luogo dove Dove vivere E poi cosa Poi cosa Poi cosa Poi cosa Intanto andiamo a scegliere il luogo Dove vivere e iniziamo a costruire Ok ho preso il luogo Ci possiamo fare con la farm di polli ragazzi Dato che Muoiono subito e ci danno tanto cibo Io direi anche di farlo Ok vediamo cosa c'è abbiamo di qua Corriamo Corriamo Ok qui nulla Qui nulla Voglio trovare un posto dove è tutto spianato Ma ci sia anche un paio da un po' di alberi Qualcosa Qui tipo potrebbe andare bene Ad esempio Ok qui abbiamo un po' di alberelli Qui Qua Ok Facciamo 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 una cosa No me l'ho fatto anche la porta e non me ne sono manca la porta Ok Saliamo qua Pum Ok Spesso non c'è questa parte Ragazzi ho visto il trailer Su Cosa Assassin creed Unite che uscirà per Per session 4 E Che cazzo sei Oh Oh Ho iniziato ora In questo Cazzo di Grazie Fa Fa culo Ok stavo dicendo Sono andato a vedere il trailer di Di questo Assassin creed 5 possiamo dire Che uscirà Questo novembre per PS4 Xbox Xbox One Devo dire una parola E' inventato Dopo la rivoluzione francese Cioè Viene subito dopo Dopo Connor Perché nel 4 Sapete che eravamo tornati indietro al Al babo di Connor Vabbè Si riprende Andando Avanti Ma la grafica Voi dovete Dovete andare a vedere la grafica Che è qualcosa di Di Nicidiale Questa PlayStation 4 Che cosa ci fa Girare Ok Qui non lo volevo Tenere così Tutto Volevo fare Una roba Del genere Un po' più di stile Non mi ci trovo Così Va a cacare Mettemolo così E Nulla ragazzi E' tutto molto molto bello Poi Altre novità Ho visto Ho visto anche Ho visto anche un gameplay Da Ho visto un gameplay Di Infamous Second Son Gioco che io Voglio e vorrei Ardentemente Però per ora Non ho ancora Possibilità economica Per comprarmela Se no sarebbe C'era mia Mua Cioè Questa mi sembrava Ossidiana Ho detto Che cos'è Ok Ok Mettiamo un po' di rubina Qua a posto E nulla ragazzi Comunque io c'ho Ancora Ho ancora L'ultimo Assassin's Creed Che è uscito Cioè Ho ancora Come si chiama Black Flag Per PS3 E Di Cambiamenti ce ne sono stati tanti Ora Sto aspettando Questi Questi Qui nuovi Perché saranno qualcosa di Extraordinario Poi Poi aggiornandomi Sui I miei Sulle miei Proposte Per il futuro Per il canale Ok Intenzione di Non so ancora Cosa voglio fare Però credo che mi Mi baserò Sui gameplay Delle console Cioè Mi spiego appena Se riuscirò a prendermi Questa PS4 Allora Lì video A manetta Dovrei riuscire a fare Perché sto morendo Aiuto Aiuto Carne Carne Ok Dovrei riuscire a prendermi La PS4 Allora si Che gli sono Video A manetta E non ho dopo Perchilato Questo zombie Ok Continuiamo qui A costruire Sta casa 2 4 6 8 Seguirebbe un altro 19 E nulla ragazzi Poi vabbè Provederò a finire La serie Di The Walking Dead Di The Walking Dead Poi ragazzi Allora La serie Che avevo iniziato Su Skyrim Ma avevo detto che iniziava una serie Che non la gioco più Perchè ci vuole troppo tempo Per registrare Per registrare Skyrim Ci vuole troppo tempo E qui c'è un nuovo E' nulla ragazzi Poi sono troppe serie Ho intenzione di fare Di iniziare una serie E portarla a termine No Non voglio Iniziarla a termine No Capito? Di fare una serie E portarla a termine Nel senso di Di iniziare una serie E portarla a termine Perfetto Perchè ora Questo Che sto facendo ora Non è una cosa Ok ragazzi Ho tagliato un attimo Perchè io quando Inizio a parlare di una cosa Poi non mi fermo più Ok Qui Ho chiuso Un po' troppo Secondo me Ok Tutto questo legno Fatemi Vedere un po' di luce Tutto questo legno Mi piace Perfetto Abbiamo La vista Su una bella montagna Di merda Ok Questa splendida vista Ma qui Sarà un po' meglio Ok Ok a parte Gli scherzi Ok 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 Qua Andevo Ok 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 ragazzi rieccomi ero andato a prendere un po' di roba ok andiamo a prendere un altro po' di legna ok come avete visto ho aumentato la distanza di rendering se no non mi faceva vedere nulla tutto per quello ok prendiamoci il legno che ci spetta facciamo scudere il video perchè saranno un quarto d'ora che ti registro manca di meno un po' di più ok ok tostolino ragazzi comunque consigliatemi altri giochi da fare io li farò volentieri sicuramente no 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 il legno merda davvero ragazzi questo legno è proprio il colore della merda eh beh che ci sono questi blocchi di merda però mi hanno fatto proprio il colore esatto eh mojang è proprio fantasioso fantasioso ok qui facciamo anche qui due quattro finestrelle non è male ok ok ragazzi qui un altro uovo sono andato a prendere un altro uovo possiamo far spawnare un pollino possiamo far spawnare poi ragazzi c'ho un dubbio si dice spawnare o spawnare boh nei dubbi ok ok qui anche qui facciamo un d2 più col fatto un po' troppo largo no dico il fatto un po' troppo in là anche qua adesso non vi sembra una casa moderna no no fail ok facciamo una porta voilà il terreno ok adesso io mi fò il letto e settiamo lo spawn dato che notte questo e il legno a posto mettiamolo qua dormi ah ok buongiorno ok ragazzi direi che per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video di questa di questa nuova serie su minecraft poi abbiamo fatto la nostra casetta io sono lollo e alla prossima ciao ciao